Se non prendo tutti gli airdrop della partita il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione ai supporto a un creatore inserite il codice fortu Poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darò un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso l'East Lake per tentare la sfida di oggi che è guardate ora come muoio Guardate tutti incazzatissimi, guardate tutti incazzatissimi Guardateli ragazzi, guardateli Tutti incazzati neri Cavolo vabbè Dovrebbe rovigliarsi Natakipirina C'è Natakipirina è una camomilla, perché Natakipirina? Ok, apposto Comunque ragazzi la sfida di oggi è se Comunque stavo dicendo, aspettate Questa notizia qua c'è, infatti Vabbè, la sfida di oggi è se non prendo tutti gli airdrop della partita Il video finisce ragazzi Allora la sfida non è semplicissima Perché praticamente ci toccherà correre per tutta la mappa Andando avanti e indietro cercando di prendere tutti gli apprevisionamenti Sfortunatamente non avremo neanche modo di sentire quando questi compaiono Perché ora non fanno manco più rumore gli apprevisionamenti ragazzi E quando li vediamo sulla mappa dobbiamo andarli a prendere Quindi dovremo anche controllarla periodicamente Comunque stiamo a vedere Ho visto che comunque lo spawn è abbastanza casuale Non esce sempre lo stesso numero di airdrop nella partita O almeno così mi sembra Quindi vediamo un po', vediamo un po' come ce la caviamo Sarà sicuramente una sfida divertente E che ci darà molta ansia ragazzi Perché non capiterà raramente Ah, fortunatamente siamo in safe, almeno questo Comunque non ci capiterà raramente Di dover attraversare tutta la mappa con una barca Per andare a prendere un apprevisionamento Che da un momento all'altro potrebbe prendere un nemico Quindi mi raccomando ragazzi Anche voi se avete una vostra idea da propormi Controllate prima tutti gli altri video che ho fatto E poi proponetemi una sfida Non solo su Fortnite ragazzi Ma su qualunque gioco voi vogliate Ok, io qua non sto trovando niente Questa cosa mi sta molto simpatica Dove ne vede? Uh, è un momento giusto, bello Potevo farmi entrambi, peccato Però ok Allora Cerchiamo di fare in fretta ragazzi Questa zona è sempre pienissima di nemici Quindi fare già questa cosa è molto molto rischiosa Sono tutti qui, spot così Ok, vediamo Grazie, grazie ragazzi Gentilissimi Non avevano niente di materiali Questi qua stavano fightando con le percoche Non lo so Veramente con la frutta I fiori Vabbè Ok Lo sparapenne me lo vorrei prendere Però non so con cosa sostituirlo Voglio sia le pozzette sia tutte le armi Solo le granate sarebbero da sostituire Ma non è il caso Ragazzi ha uno di vita C'è veramente Quel tizio è dead Cavolo che fastidio Ragazzi vi giuro Ha due di vita No ma c'ha proprio due Non sto scherzando Ragazzi c'ha veramente due Se lo colpisco col pinomato Ho fatta Ok 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 ragazzi Stanno al provvigionamento In quella zona Cavolo Provi un nemico di fronte a me Ok Non avrei avere troppi problemi Perchè ce n'è solo uno Almeno per ora Ok Pensavo fosse più difficile Un altro tipo Eh però che cavolo Dov'è la mia barca Ma si è arenata giustamente Non ne avevo dubbi Questa cosa non sta andando come volevo Sinceramente Ok Via 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 Tizio non mi sparare Basterà un po' di slalom Ragazzi tranquilli Ok ok A posto Siamo coperti ora Non è lontanissimo Dal provvigionamento Possiamo prenderlo A 300 metri Quindi ce la possiamo fare Ok E lì da qui lo possiamo vedere Dai 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 Ok Su ragazzi Su E parti Sta barca Ragazzi Mamma mia Che panico Ok Uno ce l'abbiamo A posto Ragazzi per ora Stiamo tutti tranquilli Va bene così Ok Roba interessante Eh sì direi Ci facciamo questo Ok Ragazzi per ora La situazione è tranquilla First supply drop L'ho preso pure io Quindi stiamo tranquilli A posto così Guardate che la barca A breve si sfonda pure Non è proprio Una bellissima situazione Se devo essere sincero Andiamo qui ragazzi Dai Bella per slup Slup E ci stava una barca In queste zone Ok devo fare un attimo Un change Perché la mia Ormai si è fondata Voglio dire Eh sta lì Ok A posto Ci prendiamo quello Ok ragazzi Per ora nessun altro Strano però Devo dire la verità Non vorrei che me lo sono perso Però non credo Perché Sto controllando Compostivamente La mappa Quindi Dovrei avere problemi Allora aspettate un attimo Mi servono un po' di materiali Ragazzi perché Sto messo malissimo Non potendo fightare Non ci ho fatto tanto caso Tra l'altro Non potendo fightare Ho 7 kill Prima per prendere L'approvigionamento Avevo lasciato due tipi A fightarsi Cioè raga Questa era una partita Da 15 bombe Come i bei vecchi tempi Praticamente Il fatto è che ragazzi Io non posso sapere Se qualcuno Prende un approvigionamento Velocemente Senza che io me ne accorga Eh Può accadere Però io non credo Che sia successo Perché Veramente Sto controllando Molto molto bene Ok La safe si sta chiudendo E credo che A breve Potremmo vedere Altri approvigionamenti Che ci interessano Spieghiamo qui Spieghiamoci sta roba La barca dove l'ho lasciata In sta zona Eh Sì Non cuora niente Ok ok Peccato per queste pozze Ragazzi vorrei portarmele Però Non voglio lasciare Lo sparabende Sinceramente Le pozze più le trovo Lo sparabende un po' di meno Ok Stiamo attenti in zona Avevo sentito qualcosina No Sto semplicemente in pazienza Non posso andare di qui Eh Dobbiamo passare in mezzo Perché qui poi Non ci sono più corsi d'acqua Quindi ci conviene andare Verso il centro Anche magari Per degli apprevigionamenti Andiamo ragazzi Dai Intanto Ah Pulsacrore grande Cavolo ragazzi La scelta praticamente Sono Facciamo così La scelta Allora Sarebbero o scudi O sparabende Per ora preferisco Lo sparabende Ok Facciamo così Per ora mi tengo Lo sparabende Poi dopo vediamo Se cambiare Se ne abbiamo Una necessità Cavolo Potrebbe essere Una mossa Veramente stupida La mia però Speriamo di no Ragazzi Speriamo di no Ragazzi Io sto ancora controllando La mappa Ma non sono ancora Scesi apprevigionamenti Ragazzi Ma è stranissimo Cavolo Veramente strano Sto veramente Cominciando ad avere Il dubbio Oh Ok Sto veramente Comincendo Madonna Ad avere il dubbio Che mi sono perso I apprevigionamenti Non lo so Non lo so ragazzi Sniped Ok Quindi a prescindere Il nemico l'ha fatto fuori Dovrebbe essere in questa zona Quello che l'ha sparato Ragazzi Noi continuiamo a controllare Magari Ho sentito qualcuno Che l'ha preso Ah ma guarda come è simpatico Questo tipo Infatti che qui Si sta facendo Un po' troppo casino Non mi piace Ok Senza scudo Questo è poco ma sicuro Ancora niente Ok Ma è stato eliminato Un tipo Quite strange dude Forse quando si chiude la safe Ne vedremo dei nuovi Ah Cavolo Ok Dai ragazzi Questa partita è nostra Io lo so Io lo so Deve essere nostra Dai 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 Oh Ah dai Voglio solo 3 giustamente Ok Stavo spammando 4 Ma non ne avevo Era un po' ridicolo Si sta curando Si sta curando Ok ragazzi Un apprevisionamento E' comparso lì Proprio infame L'ho visto Mentre cadeva Non ho neanche controllato La mappa Meno male che me ne sono accorto Ragà Non c'è nessuno in zona Mamma mia Ragà siamo in 3 Cavolo Veramente pochissimi Apprevisionamenti No ragà Io credo di essermene perso qualcuno Non posso neanche concludere il video Perché Non so neanche quando Non me ne sono accorto A parte che mi sono preso Un M4 per sbaglio Ma mi sta accogliendo Ah a posto Ok Facciamo che questo Era un segno del destino Ehm Ehm Vabbè Ok Diciamo che Va così ragazzi Non mi potevo prendere Lo spara band Ok Io spero che Gli approvvigionamenti Non ne vedremo ancora Lo spero con tutto il mio cuore Sinceramente Altrimenti diventa Un po' un casino Ma ragazzi Mi sono lasciato scappare La kill proprio Cioè ce l'avevo in pugno Al nemico È caduto Non ho capito dove però Dall'altro lato Stava vicino a lui Bravo Le farei davvero saltare Tutti in aria Sì Sì Muto Muto Sluglap 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 Ok ragazzi Quindi il video di oggi è andato Mi raccomando Nei commenti Iscrivetevi Anche voi Una challenge da fare In un prossimo video Non se lo supporto E noi ci becchiamo Alla prossima Ciao Ciao